Con il terzo capitolo di Sniper Elite, i ragazzi inglesi di Rebellion hanno il non facile compito di traghettare la serie verso la nuova generazione e allo stesso tempo mantenere i buoni standard qualitativi dei due precedenti capitoli. Vediamo quindi a che punto sono i lavori per lo sniping più apprezzato di sempre. Sniper Elite 3 cambia drasticamente la faccia della serie. Il salto dalle grigie e anguste via di Berlino al Nord Africa, ora lussureggiante e ora desertico, si impone subito al giocatore. La scelta della location è tutto forche casuale e si presta a differenti scopi. Innanzitutto c'era la volontà da parte degli sviluppatori di proporre nuove regole e varianti al gioco tra gatto e topo che ha da sempre caratterizzato la serie, mettendo il giocatore di fronte a livelli più ampi e ricchi di insidie, i quali si prestassero per di più anche ad inserire nel contesto battaglie di grandi dimensioni. Secondariamente l'Africa rappresenta un fronte della seconda guerra mondiale poco raccontato. Dal punto di vista del gameplay, uno degli aspetti più interessanti della produzione è la rilettura del ruolo del cecchino, che vede protagonista proprio la differente ambientazione. Piuttosto che comportarsi come asso nella manica dell'affanteria, negli ampi panorami africani il tiratore scelto veniva sfruttato anche come scout, inviato quindi in avanscoperta per aprire la strada a contingenti ben più ingombranti e rumorosi. Come ormai da tradizione per la serie, Sniper Elite 3 proporrà situazioni di gioco divise tra realismo e licenze poetiche, senza tuttavia trascurare una diffusa verosimiglianza, soprattutto nella rappresentazione delle tattiche militari. Il cambio di ambientazione gioca un ruolo fondamentale anche nei suoi rapporti con il gameplay. Sniper Elite 3 presenta i livelli come piccoli sandbox dove il giocatore avrà totale libertà su come muoversi. Gli ampi orizzonti richiederanno una pianificazione molto attenta delle proprie mosse. Complessivamente l'incedere è caratterizzato dall'alternanza tra fasi stealth dove ci si muove eliminando silenziosamente i nemici con la mossa corpo a corpo alle spalle o con la pistola silenziata per poi passare al cecchinaggio, una volta individuato un buon punto di vantaggio. Prima di posare l'indice sul grilletto tuttavia è fondamentale studiare il territorio e la presenza nemica e soprattutto prepararsi a rapidi cambi di posizione dopo aver fatto fuoco. La nuova intelligenza artificiale messa in campo da Rebellion si è dimostrata infatti molto efficiente nel triangolare la posizione del giocatore con gli avversari in grado di comunicare tra loro e scambiarsi l'un l'altro informazioni relative alla provenienza degli spari. Per quanto riguarda le meccaniche di sparo non abbiamo notato particolari modifiche rispetto al sistema classico già più che soddisfacente con l'unica eccezione delle spettacolari killcam le quali ora presentano visuali a raggi X anche quando si vanno a colpire oggetti sensibili. Interessante è anche una maggiore dotazione in termini di granate tattiche ottime per piazzare trappole in grado di eliminare diversi nemici contemporaneamente. Il primo contatto con Sniper Elite 3 evidenzia alcuni aspetti molto interessanti. Il radicale cambio in ambientazione non si ferma all'elemento cosmetico ma garantisce un approccio molto più aperto e imprevedibile al gameplay considerato anche il lavoro svolto sull'intelligenza artificiale. Nuove informazioni magari in seguito ad una prova diretta non tarderanno ad arrivare di qui all'uscita prevista nel corso del 2014 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC.